Camera di commercio di Bolzano, terza edizione dell'incontro Donna nell'economia, manifestazione che rientra in una più ampia iniziativa a sostegno delle imprenditrici e delle dirigenti. Le partecipanti alla serata di informazione e formazione hanno preso parte ad una serie di veloci confronti pratici sul tema self-marketing e networking. Se si esclude l'agricoltura il 34% dei titolari e soci di imprese è rappresentato da donne. L'Alto Adige si posiziona così leggermente al di sopra della media nazionale pari al 30%. Certamente le opportunità non mancano e questa sera che abbiamo sull'argomento del self-marketing è proprio per potenziare il loro ruolo e aiutarli perché ormai tutti gli studi lo confermano le donne come competenze non sono più indietro agli uomini però a volte hanno il problema diciamo di presentarsi e anche farsi valere. Susanna Fink, esperta inter internazionale ha coinvolto le partecipanti sui segreti del sapersi proporre e posizionare sul mercato del lavoro. Le donne hanno così potuto testare concretamente i vari consigli inerenti al presentarsi, alla gestione professionale dei biglietti da visita, alla capacità di sostenere conversazioni in ambito lavorativo. Quando le donne si propongono di fare self-marketing è importante sapere che spesso ci si autolimita già nel linguaggio. Usiamo parole troppo poco incisive, molti condizionali, vorrei, potrei eccetera. Non siamo abbastanza dirette, abbastanza precise, abbastanza decise. Spesso facciamo anche fatica a riconoscere i nostri punti di forza individuali perché pensiamo che troppe cose che facciamo siano ovvie. Facciamo troppo poco caso ai riconoscimenti, ai complimenti dei nostri clienti. Questi sarebbero degli indicatori dei nostri punti di forza. Inoltre costruiamo troppe poche relazioni. Spesso le donne sono imprenditrici singole che lavorano dall'ufficio di casa e così trascurano le relazioni. Creare una rete di relazioni è molto importante per partecipare alla divisione della torta dell'economia. Se nessuno mi conosce diventa difficile fare affari. La presenza delle donne nei posti di vertice delle singole imprese deve essere ulteriormente aumentata se si considera che, secondo studi recenti, le aziende con un maggior componente femminile hanno più successo. L'incontro Donna nell'economia fa parte di un'iniziativa lanciata nel 2011 dalla Camera di Commercio di Bolzano per promuovere l'imprenditoria femminile e rafforzare quindi il ruolo delle dirigenti. La Camera di Commercio adesso è già da tre anni che ha questa iniziativa donne nell'economia e questa serata è una delle varie misure che abbiamo. Abbiamo un vasto programma formativo proprio dedicato alle imprenditrici, alle donne in carriera e alle donne in posizione dirigenziale. Inoltre abbiamo un programma di coaching molto mirato che le donne richiedono e credo che le dia veramente un bel supporto. Tornando alla relazione dedicata al self-marketing, le partecipanti alla serata organizzata dalla Camera di Commercio di Bolzano hanno potuto comprendere le potenzialità di una formazione dedicata proprio all'autopromozione sul mercato del lavoro. Esistono diversi approcci e ragionamenti che fanno scoprire le proprie specificità. Dire per esempio in un colloquio di presentazione in parole semplici e precise chi si è, cosa si sa fare, qual è la propria specializzazione, quali sono perciò i vantaggi per il cliente e come potrebbe concretizzarsi un contratto di lavoro. Queste cose si possono imparare. L'incontro Donna nell'economia è stato organizzato dal WIFI, il servizio di formazione della Camera di Commercio di Bolzano, che ricordiamo offre formazioni specifiche per le donne. La Camera di Commercio di Bolzano